Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne moldavo privo di documenti ritenuto responsabile assieme ad un complice connazionale e minorenne di tentato furto aggravato. Lo straniero è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza e così anche dai militari dell'arma all'interno del negozio Centro Palace immediatamente dopo aver asportato un paio di jeans del valore di euro 150 dal quale aveva rimosso la placca antitaccheggio utilizzando una tronchesina che portava addosso. Nelle vicinanze del negozio veniva rintracciato dai carabinieri anche il complice di 16 anni trovato in possesso di un arnese da scasso identico a quello rinvenuto addosso al connazionale. Dalla perquisizione inoltre a casa del minore a Pesaro nascosti all'interno di un borsone i militari hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento di marca, magliette, giubbotti, pantaloni, felpe ed altro per un valore di almeno 1000 euro che naturalmente veniva sequestrato dai militari dell'arma. Inoltre lo straniero veniva arrestato anche dovendo scontare una pena di un anno e tre mesi e 29 giorni di reclusione per il reato di tentato furto aggravato in un'abitazione. L'arresto che in fragranza di reato è stato convalidato nella mattinata odierna da parte del Tribunale monocratico di Pesaro lo ha condannato a seguito di paddeggiamento alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione nonché a 360 euro di multa. Continuano però le indagini dei carabinieri per risalire ai proprietari dei numerosi capi di abbigliamento recuperati ed il Moldavo dovrà rispondere anche di ricettazione e false dichiarazioni sulla propria identità personale. Il minore invece è stato denunciato alla procura dei minorenni di Ancona per tentato furto aggravato in concorso.